Sì, il progetto va avanti in maniera abbastanza naturale nel senso che si è cercato di dare continuità a quello che era stato all'inizio e la storia pallanotistica di Gianfranco come allenatore che è durata ben 17 anni. Io ho avuto il piacere e l'onore di sedere al suo fianco nella LNA e di guidare la 17 e la seconda squadra per cui la società ha deciso quest'anno di darmi questa opportunità che io ho accettato ben volentieri. Parlando della scorsa stagione, la squadra è arrivata fino in fondo, Kreutzlinger però è arrivata in fondo più fresca se vogliamo dire così? Il Kreutzlinger è da anni la nostra antagonista diciamo che siamo con loro e con l'Orgen sciaffusa anche le quattro squadre che poi alla fine si contendono il titolo quest'anno noi avremo un obiettivo un po' diverso perché rispetto all'anno scorso hanno lasciato quattro elementi molto forti e importanti Goran Fiorentini, Francesco Tramacera Arnaldo Desertica e Dano Graziani per cui diciamo che partiamo non da favoritissimi però venderemo come si usa dire cara la pelle quindi cerchiamo di fare il nostro meglio anche quest'anno. Il campionato è alle porte però comunque la squadra ha avuto diversi innesti ma soprattutto anche un ritorno molto importante. Sì, allora quest'anno noi abbiamo ripreso Iassi in Scala che comunque è stato un ritorno anche molto gradito perché un ragazzo che giocava col Basilea ha fatto la sua esperienza lì è cresciuto tanto e poi è tornato con noi. Poi è rimasto lo zoccolo duro della squadra dell'anno scorso appunto senza i quattro elementi che citavo poc'anzi e quindi siamo sicuramente una squadra da da temere ecco e speriamo di fare veramente bene anche per rendere contenti i nostri diforsi. Parlando invece di Lega Nazionale B ovviamente insomma è una formazione molto giovane Under 17 sapete che lei ha avuto il piacere di allenare però ritiene che ci siano anche lì dei giovani che magari potranno avere un minutaggio superiore a quest'anno? Assolutamente noi già io con l'allenatore di quest'anno che segue parte degli allenamenti con un gruppo che fa parte della LNB c'è Chico Pagani che è appunto anche il nostro giocatore della prima squadra monitoriamo i ragazzi tutti i giorni e ci sono già due o tre elementi che a breve cercherò di inserire nella prima squadra per dargli un maggior minutaggio e farli crescere in quanto ad esperienza continuiamo il nostro approfondimento con il capitano Danny Fiorentini lo scorso anno il titolo è sfumato proprio alla fine diciamo che è mancato un qualcosa diciamo che gli Sharks sono arrivati alla fine che sembravano un po' stanchi effettivamente sì siamo arrivati a fine stagione scarichi fisicamente e poi si ripercuote anche a livello mentale siamo stati poco lucidi nei movimenti decisivi nei momenti decisivi soprattutto e questo poi è un risultato una sconfitta quest'anno ci sono stati alcuni cambiamenti sono andati via alcuni giocatori insomma che erano alcuni scorici sono arrivati alcuni giovani molto interessanti soprattutto poi abbiamo avuto un ritorno molto importante come Iassi Scala ricordiamo giocatore della nazionale svizzera che sarà molto importante ma assolutamente sì abbiamo fatto un ricambio generazionale diciamo quindi come ogni cambio ci vorrà un po' di tempo per amalgamare il gruppo far capire i nuovi movimenti ai nuovi arrivi e farli crescere soprattutto l'arrivo anche di giocatori più grandi e più esperti come Iassi sicuramente ci daranno un contributo importante tu personalmente invece quest'anno per te l'ennesima stagione sembra che assolutamente non sei stanco di giocare anzi ci metti veramente una grinta incredibile ma ci provo almeno ecco ogni stagione che passa è sicuramente più difficile ripartire riprendere mantenersi concentrati per tutta la stagione è chiaro che l'energia e la voglia c'è si cerca di mantenere come quella di un tempo vediamo un po' come prosegue dopo averlo visto in nazionale lo rivediamo qua nel suo club Yassin Scala settimana prossima anzi doveva già iniziare questo sabato contro Gineva settimana prossima contro Carugge riprenderà il campionato siete veramente carichi ma sì carichi siamo carichi ora dobbiamo preparare le ultime cosette e poi diamo il via alla stagione c'è tanta attesa anche verso di te ma penso che l'attesa sia sul Lugano in genere non sui singoli giocatori per cui siamo un team ci giochiamo ci gioca tutti assieme per cui ce la dividiamo equamente diciamo ti abbiamo visto recentemente in nazionale adesso ti rivediamo nel club quanto la tua esperienza in nazionale ti è utile soprattutto nel club allora l'esperienza è sempre molto utile quei weekend in più ad allenarsi con la nazionale con magari squadre internazionali o così chiaramente danno quel qualcosa in più che danno sempre un grande apporto alla squadra e ai compagni e concludiamo anche lui lo abbiamo visto in nazionale Svizzera Sebastien Zanola la stagione sta per iniziare c'è tanto entusiasmo molto entusiasmo nonostante la nostra sconfitta l'anno scorso un motivo in più per allenarci ancora meglio rispetto all'anno scorso e non vediamo l'ora io non vedo l'ora come penso tutta la squadra di iniziare questo campionato come dicevamo ti abbiamo visto in nazionale insieme a Yassin diciamo che voi siete tra virgolette fate un po' da chioccia quest'anno ci sarà anche l'ingresso di diversi giovani che hanno veramente bisogno di un supporto molto importante assolutamente sì i giovani sono diciamo una parte molto importante della squadra devono seguire ovviamente i giocatori più esperti che sono come Deni come Chicco come Duchi penso che possono imparare un sacco da tutti questi giocatori diciamo che ci è rimasto un po' tra virgolette un po' qua lo scorso anno il titolo è sfumato proprio all'ultimo però diciamo che come dicevo siete arrivati alla fine che non so sembravate un po' scarichi allora la mare in bocca è rimasto ovviamente come ho detto prima questo è un punto di forza per noi per incominciare meglio quest'anno sì siamo arrivati un po' scarichi l'anno scorso verso la fine quest'anno sin dall'inizio della nostra stagione quindi a settembre abbiamo cominciato subito forte con gli allenamenti anche con il nostro nuovo allenatore che è Carmine abbiamo subito messo la sesta marcia con tutta la voglia di provare a tornare con la vittoria di questa stagione bene amici telespettatori ringraziamo Sebastien Zanola ringraziamo i Lugano Sharks e appuntamento nel proseguo dei programmi di Swiss World TV alla prossima ciao